È ormai ufficiale, l'associazione sportiva GEAS NBC Velacolico ospiterà il prossimo campionato nazionale per imbarcazioni Vorien, che si terrà sulle acque dell'Ario dal 19 al 21 agosto 2016. Un appuntamento prestigioso per il club guidato da Maurizio Garbuio, che vanta 46 anni di attività, iniziata come sezione della celeberrima Montedison. Due anni fa la fusione tra i due circoli nautici del paese ha conferma dell'impegno costante nella promozione di questo sport, grazie alla scuola e all'organizzazione di regate, che hanno portato a 200 gli iscritti, tra loro valtellinesi e lariani, ma anche molti milanesi e brianzoli, che hanno trovato sotto il legnone il luogo ideale per coltivare la propria passione. E proprio dalla passione per la classe Vorien, che spiega il presidente, è arrivata all'assegnazione della sfida più ambita. Noi siamo il centro operativo della classe Vorien nel nord Italia, che ha un grosso sviluppo in Toscana, dove c'è il cantiere più famoso che produce questo tipo di barca. Ma noi storicamente l'abbiamo sempre utilizzata per i nostri corsi vela e di conseguenza abbiamo anche sempre organizzato le regate, in particolare questa che si chiama il Trofeo Bosatta, che è una regata nazionale, a livello nazionale, sempre molto partecipata e ci è sembrato naturale, dopo tanti anni dell'organizzazione di una delle tappe nazionali della classe, se organizzare il campionato italiano. Insomma, esser stati scelti è una bella soddisfazione. Numerosi gli equipaggi attesi in paese, spiega il direttore sportivo Antonio Giovenzana, tra i quali non mancheranno quelli della GSNBC. Speriamo da molte parti d'Italia, naturalmente siccome è una classe molto forte, in Toscana soprattutto gli equipaggi più importanti arriveranno da lì, speriamo venga anche il campione del mondo. Ci aspettiamo una trentina di equipaggi e quindi cercheremo sicuramente di mettercela tutta per fare onore a questa manifestazione e sicuramente ci metteremo anche l'impegno per preparare i nostri atleti affinché in questa manifestazione non ci deludano. Voi con quanti equipaggi parteciperete? Pensiamo di mettere in acqua almeno una decina di barche di colico, quindi con persone che sono state sostanzialmente preparate qui nel nostro circolo. Quest'anno ai mondiali abbiamo partecipato con la categoria dei legni, Vorian in legno e non siamo andati malissimi, per cui ci sono buone speranze, ma soprattutto confidiamo nelle nuove eleve, nelle nuove generazioni, che stiamo preparando affinché facciano bella figura nella manifestazione nazionale dell'anno prossimo. A questo proposito vale la pena sottolineare tutto lo sforzo di scuola che noi stiamo facendo, in particolare legata appunto allo scafo Vorian con i corsi che normalmente organizziamo e che quest'anno saranno attentamente profilati in funzione della manifestazione nazionale dei Vorian. In occasione dell'appuntamento di agosto arriveranno centinaia di persone, tra velisti e appassionati, con decine di barche in acqua, per quello che si presenta alla vigilia come un appuntamento da tutto esaurito.